Da oltre 30 anni ci occupiamo di arredamento bagno, finalizzati anche all'arredamento del bagno d'albergo e da quest'anno abbiamo deciso di sfruttare la nostra struttura anche per le camere d'albergo. Forti di un'esperienza della lavorazione del legno che ci potrà distingue dal 1976 ad oggi, abbiamo applicato tutta la tecnologia che abbiamo, anche la produzione della camera e possiamo spaziare veramente tra una gamma di prodotti, di essenze e di finiture davvero particolari. Nel bagno abbiamo realizzato diverse cose nuove, dalla foglia oro, la foglia argento, laccati metallizzati e anche finiture sempre in essenza e i nuovi laminati spazzolati che rappresentano il nuovo invitante prodotto per una finitura e un rapporto qualità prezzo sempre piuttosto interessante anche per il cliente finale. Ci rivolgiamo in particolare a collaborazioni sia con gli studi di architettura e chiaramente con le catene alberghiere e con l'albergatore come singolo cliente. Il nostro core business è quello appunto di offrire un pacchetto completo all'albergatore in modo tale da togliergli qualsiasi tipo di problematica e quindi con il nostro ufficio tecnico siamo in grado di realizzare su misura e su disegno proprio e perché no anche rispettare un certo budget di spesa che in questi tempi non fa mai male.